Ragazzi è sempre a vostro parere, non dite mai, io l'avrei fatta, porco due, io spaccherei la faccia a tutti quelli che dicono, ah, io l'avrei fatta così. Bentornati amici a questo appuntamento con Ox Osmer Fabre, vi sono mancato, lo so, mi sono mancato anch'io, sono stato molto impegnato perché fra lavoro, cose, bambini, poi mia moglie ha ripreso a lavorare pure lei dopo due anni di gravidanza, dopo due anni fra cui c'è stata la gravidanza, materità e cose varie, insomma, settimana molto difficile, molto pesante, per cui vi chiedo scusa se non sono stato presente, se non ho postato regolarmente come vi avevo promesso, vi avevo anche avvisato che l'intento è quello di fare una cosa di due o tre volte alla settimana, figli, vita, cose permettendo, per cui, fedele a me stesso, comunque vi chiedo scusa e rieccomi. Allora, oggi non parleremo di software, colgo lo spunto di una chiacchierata, farò una cosa più o meno a ruota libera, insomma, colgo lo spunto di una chiacchierata con un amico che è un neofotografo, e allora mi ha fatto vedere delle foto, Gabriele, ciao Gabri, mi ha fatto vedere delle foto e mi ha chiesto consigli e io l'ho dato il mio parere, ok, gli ho fatto la mia pseudocritica e soprattutto appunto ho cercato di dargli le dritte che secondo me potrebbero aiutarlo a migliorare un po' l'aspetto fotografico. Da qui nascono varie domande, soprattutto la sua che dice, ma la foto perfetta, la foto esiste o non esiste? Allora, voglio sfatare un mito, non me ne abbiano fotografi, non me ne abbiano nessuno, ma ragazzi, ve lo dico qua, qui lo dico, lo ripeto, lo confermo, 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 la foto perfetta non esiste. Non esiste, facciamo un preambolo, io sono anche musicista, scrivo canzoni, molti di voi lo sanno, e ho passato la mia vita a, anzi l'intento iniziale, quando mi cominciai a scrivere canzoni, avevo tipo 14 anni, era quello di cercare di scrivere la canzone d'amore più bella che avessi mai sentito. Tra l'altro ne sono scordato di mandare la sigla, vabbè, la metto in testa in fase di montaggio. Comunque, l'intento era quello di scrivere la canzone d'amore più bella che avessi mai sentito. E ovviamente, poi tra l'altro, così può dire, romanticone come sono io, figurati di quante canzoni d'amore ho sentito nella mia vita, no? Tipo, considero ancora tuttora, tanto per la sentire, sono ancora fermamente convinto che You Take My Birth Away dei Queen sia una delle canzoni d'amore più belle che siano state mai scritte. Detto questo, cosa fa di una canzone la canzone perfetta? Cosa fa di una canzone la canzone più bella? L'opinione, l'unica cosa che rende bello qualcosa è l'opinione, ok? Lo confermo. Allora, procedendo per Step, quello che ho detto a mio amico Gabriele è stato Sì, ci sono dei canoni, delle regole, cioè, tu non sei fotografo a prescindere, ok? Non si è fotografi, non si è fotografi, non si è musicisti, non si è artisti a prescindere, ok? C'è un percorso, c'è uno studio, c'è un perfezionamento, ci sono degli studi, ci sono delle cose che sono i canoni fondamentalmente da seguire, per la fotografia abbiamo la regola dei terzi, la curva aurea, la sequenza dei fibonacci, abbiamo l'orizzonte sopra, sotto, ma è centrale possibilmente, ma... Il problema cos'è? Che la democrazia del web e la democrazia della tecnologia ha portato, a mio parere, ad una apertura e rottura di tutti gli schemi, ok? Ne deriva il fatto che, non dico che tutti possono essere artisti, però tecnicamente non c'è più una vera regola che dice Ah! Quello è l'artista, ok? Nel senso, vista dalla parte dell'artista questo, no? Perché di fatto, per dire, mia moglie lavora nella moda, ok? Lei è una truccatrice professionista. Ogni tanto io guardo le foto che fanno nei servizi di moda, fra cui molti ci lavora pure lei, Ilaria e di Lauro, metto link da qualche parte, non so, Così magari andate a vedervi le foto, lei fra la truccatrice, guardo le foto e dico... E mi escono gli occhi, cioè mi escono proprio tipo... Il vomito totale, perché... Perché non c'è una, una, dico una regola standard della fotografia che venga rispettata nella moda oggi, ok? Anzi, più rompi le regole, più rompi gli schemi fotografici, Più rompi il bucio di culo, spazzesamente termine, che sono fatti Bresson, Mapplethorpe, Newton, e tutti sti grandi maestri che negli anni hanno sdettato le regole della fotografia, e più sei fico. E la domanda è... Dici, ma cazzo, ma allora... Perché ho dovuto studiare questo, ho dovuto vedere quello, perché ho dovuto imparare qui, imparare là, imparare su? Perché di fatto è il principio dello strumento musicale. Tu impari a suonare lo strumento, ti spacchi le dita con la chitarra, con la tromba, io sono, sto... No, la tromba ce l'ho di là. Non hanno che adesso suonano la tromba, o meglio, che sto cercando di imparare suonare la tromba, per quanto mi dicano che sono bravo, però... Vabbè. Ma la padronanza della tromba arriverà, dello strumento arriverà fra un bel po'. E cosa vuol dire la padronanza dello strumento? La padronanza dello strumento vuol dire che se oggi tu sei in grado di leggere uno spartito, seguire una musica, conoscere la viteggiatura delle scale, dei pattern, roba del genere, l'uso proprio degli esercizi è una cosa... è quello che ti rende... ti fa fare il salto, ok? Nel senso che di fatto... sì, tu puoi anche fare la canzone... guardate Naki e Nave e Zor, Naki e Nave e Zor sono tre accordi, quattro. Sol, re, la minore, sol, re, do, ok? Sono quattro accordi. Eppure è considerata una delle canzoni più belle della storia, più belle, più... sì, della storia del rock, insomma. Ci fa parte del novero, delle grandi canzoni rock, pop, folk, chiamatelo come vi pare, no? Però... diciamo che... non voglio dire che chi è arrivato a scrivere Naki e Nave e Zor, che tra l'altro non è di Bob Dylan. Non è di Bob Dylan. È una cover anche quella di Bob Dylan. Ve lo dico qua. Se non lo sapete, sapevate. Se non lo sapete... sapevatelo. Per arrivare a comporre Naki e Nave e Zor, canzone del cazzo fondamentalmente, non dico... non voglio pensare che l'autore fosse un inguimmalmsteam della chitarra, però, di fatto, la semplicità non comporta necessariamente l'ignoranza. Questo da parte del lato... il punto lato dell'artista, ok? Io quello che consiglio sempre, e che ho consigliato anche l'amico Gabriele, è fotografa, fotografa, fotografa... tu impara le regole, impara la regola dei terzi, impara a creare la composizione per come dovrebbe essere. Per come dovrebbero essere secondo gli standard, no? Da lì in poi, puoi andare oltre ed esuberare. Purtroppo, la democrazia, dicevo, della tecnica, la democrazia del web, ha parlato che artisti che oggi sono definiti artisti, io non gli darei mano a una macchina fotografica, neanche se mi dicessero guarda, sono sto cazzo, ma semplicemente perché non è che... cioè, purtroppo, il lato oscuro della democrazia del web è proprio questa, cioè che c'è la botta di culo, ok? C'è la situazione che dici su mille scatti fatti ne ho beccato uno wow e magari quell'uno wow è quello che ti fa svoltare la carriera. Purtroppo è così. Purtroppo, purtroppo lo dico specifico è così perché la mette in culo a tutti noi che magari ci siamo studiati e ho fatto corsi su corsi, studi vari. Allora, io ammetto ammetto che non sono uno che ha studiato accademie e cose di fotografia. Sono, come in tutta la mia vita, con tutte le cose, sono un grande smalettone, un grande osservatore soprattutto. Però diciamo che da lì al dire sono sto cazzo, aspetto, faccio. nemmeno nel 2008 vinsi un premio, partecipai a un concorso internazionale della Hasselblad Masters of Photography con la serie Body che adesso vi posto qui in qualche foto così la vedete con la serie Body e queste foto qui furono selezionate e arrivai tipo semifinalista mondiale mondiale fra gli Hasselblad Masters di quell'anno lì del 2008. Grande motivo d'orgoglio. Non mi ha aperto nessuna porta ma perché? Perché purtroppo forse sono fatto male io e tendo a nascondermi anche dietro il dito pur di non dire sono bravo o non sono bravo. Ma quello che voglio dire è prima di arrivare a presentare una foto agli Hasselblad Masters of Photography io erano già quattro anni che facevo fotografia ma in maniera ignorante partendo sono parito con la pellicola mi ricordo un viaggio in Scozia in cui ho fatto quasi mille diapositive in una settimana e mezza due una settimana e mezza quasi mille diapositive e di queste mille diapositive ne avrò selezionate sì e no boh 50 perché è così la fotografia è così cioè quando tu cominci a studiare e avere quindi l'occhio critico il lavoro costante così come gli esercizi sugli strumenti il lavoro costante ti porta anche a vedere la qualità del tuo prodotto ribedisco ribedisco però non c'è la fotografia perfetta perché poi detto questo c'è l'opinione l'opinione di chi osserva la fotografia e questo è il lato più duro perché perché se una volta arrivare a fotografare bene c'erano dei costi c'erano dei percorsi c'erano delle conoscenze c'erano delle le mostre c'erano ragazzi c'erano le mostre e prima di essere definito fotografo dalla comunità e quindi quindi anche definirti poi cioè prima di essere riconosciuto come bravo grande fotografo dalla comunità e soprattutto anche penso umilmente parlando essere definirsi fotografo minca di gavetta non ti fa cioè di strada di fotografie hai voglia macinà e questo ti portava quindi ad un ad un'analisi anche più profonda del tuo lavoro ok mi ricordo nel 2007 mi pare ci furono a cui Roma organizzavano non so se lo fanno ancora il festival internazionale della fotografia e io due anni prima ero stato ad Haiti a fotografare per un viaggio ok e ebbi l'occasione l'occasione felice molto felice io io bacio il cielo oggi ancora di aver potuto fare quel viaggio perché ebbi questa occasione di trovarmi in un ambiente completamente avulso dalla mia realtà in un contesto talmente diverso talmente particolare talmente non è bello talmente diverso che ragazzi facevi così con la macchina fotografica anche un sasso era fico e cioè veniva la foto e dici wow perché poi c'è anche questo contingente c'è questa cosa qua c'è il il soggetto che tu fotografi spesso fa dalla fa la tua fortuna ok nel 2007 andai alla mostra di questo al vincitore del national dell'international che fu non so se ve lo ricordate magari lo trovo in rete la foto era quella di quel braccio c'era stato lo tsunami in indonesia insomma all'est ai paesi dell'est del far east e praticamente c'era la foto di questo braccio del morto sulla spiaggia e la moglie insomma che era che era inchinata a piangere il cadavere del del conige foto fortissima non voglio assolutamente dire niente non voglio dire no faceva cagare direi una minchiata la foto era fortissima era indubbiamente forte di lui organizzarono la mostra al palatino insomma su uno di questi colli di Roma palatino non mi ricordo più dove era la mostra tipo una una mostra di quelle insomma una mostra di lui delle fotografie del suo percorso storico lavorativo arrivai là tutte foto meravigliose tutte foto dell'India di questi da Bangalore sul Gange che facevano seppuciavano nell'acqua tutti i zozzi tutti tutti belli in quanto indiani belli in quanto poveri belli esattamente come le mie foto di Haiti parlo con massimo rispetto massimo rispetto non mi meleverò non sentirete mai dirmi a no lui è lui e lui è sto cazzo io sono io e non sono un cazzo però quello che il primo pensiero a metà mostra tra l'altro foto stampate un metro per settanta bianco e nero tutte con questa pasta della stampa artigianale anche perché quel periodo lì era ancora un po' c'era lo shifting fra il digitale e la pellicola queste foto erano tutte fatte in pellicola perché raccontavano trent'anni di storia di foto giornalismo in india cazzo vuol dire vuol dire che se tu mi fai una mostra di un percorso di trent'anni di foto giornalismo in india io sfido chiunque anche il fotografo più stupido più imbranato più che con manco col cellulare proprio con la macchinetta usa e getta di quelle che trovi ai matrimoni trovi ai matrimoni sfido chiunque non tirare fuori almeno 10 foto buone contestualmente in un'altra sala del palatino sculino quello che è avevano c'era un'altra mostra di un fotografo olandese al cui non so se il comune o non so chi aveva incaricato di dare una di fare delle foto di roma questo che ha fatto si è scelto il tema si è scelto la storia si è scelto il il target e ha fatto delle foto di una roma di roma violentissima violenta notturna puttana ragazzi meraviglioso meraviglio cioè questo è arrivato giù dall'olanda e ha detto te fotografa roma faccio sognare faccio tutti si aspettavano monumenti cose fige la roma classica la roma fotografata da chiunque e invece questo che fa te fotografa le mignotte fa foto di notte fa foto di una roma sporca notturna anche violenta è stupendo questo perché perché se la mostra dell'indiano o del fotografo giornalistico era una selezione di 30 anni in india esattamente come è successo a Mahdaiti qualunque foto faceva ad Haiti era bella il valore aggiunto secondo me ovviamente di questo fotografo olandese era proprio questo era il fatto che tu non stai in india a fotografare cioè in un posto così lontano dal tuo contesto che appunto qualunque foto fai è figa vai invece in una città europea come potrebbe essere una qualunque altra città europea e trovi lì racconti il tuo modo di vedere la città e questo fa la differenza questa è la differenza per cui arriviamo a quello che io ho detto appunto Gabriele gli ho detto Gabriele ricordati bene non esiste la foto perfetta perché per quanto tu farai foto belle leccate ricercate con tutti i crismi delle regole giuste con tutti i crismi delle regole rotte con tutto quello che riguarda la scienza della fotografia finché l'opinione ti darà il culo servirà a niente ma qual è il segreto della fotografia il segreto della fotografia è lo stesso segreto di una bella storia di un bel film di una bella canzone che non è l'aspetto tecnico fa un grande favore l'aspetto tecnico ragazzi quello che fa bella una fotografia è la storia che vuoi raccontare ok non ci sono cazzi se tu nel caso allora quello che la foto di Gabriele era una panchina sulla vallata con in fondo il mare e io ho detto che cosa mi vuoi raccontare in questa storia la panchina la vallata la solitudine è questo che fa la fotografia che fa una bella canzone o che fa un bel film quello che c'è dietro la storia che ti porta a quella cosa lì la foto che vinse nel 2007 perché poi io non sono andato a molte mostre lo ammetto perché ho una visione tutta mia della creatività quello che vinse in quella foto del 2007 fu la storia fu la tragedia che c'è stata dietro a quella fotografia che lui ha saputo cogliere e rendere universale in uno scatto perché ci sono artisti che funzionano di più di altri perché Ligabue Vasco per parlare di artisti italiani perché funzionano di più di altri perché un ultimo piace tanto perché ti arriva la storia che vogliono raccontare non ci sono cazzi non c'è ammazza però ha fatto un assolo che ti spacca il culo ci vogliono dieci dita in una mano per far l'assolo della chitarra no 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 bastano tre note mi diceva il mio maestro di chitarra Giuseppe Michelangelo di buono eh tre note per fare un assolo che dici minchia ok perché è quello che tu vuoi raccontare che fa la differenza per cui mettetevelo bene in testa non è la sony alfa sette tre la GH4 GH5 GH900 e non è la D Mark II non è la C 200 della Canon la R6 no non è la macchina che fa la vostra fotografia bella dimenticatevelo proprio chi è cazzuto Mappleton guardate io sono qui Reuter Fulvio Reuter grande fotografo italiano Reuter è stato uno dei più grandi fotografi italiani chi non lo conoscesse per favore andate a studiarvi un po' la grammatica della fotografia ok guardate guardate questa foto quante cose vi racconta questa foto ok cosa cosa vi sta raccontando Fulvio Reuter in questa foto qua cosa vi sta raccontando in questa foto qua ok quanto vi riconoscete quanto vi ispira la fotografia che state vedendo vi ispira una storia come potete cosa vi racconta questa signora che sta in Marocco penso penso in Marocco si sta portando l'acqua o qualcosa sulla capoccia che credo che sia acqua in un percorso molto desertico è questo che fa il segreto della fotografia è dalla parte del fotografo dare l'input al racconto di una storia o raccontare lui stesso come faceva Salgado come faceva Newton come faceva Bresson maestro assoluto in questo senso qua Bresson con due cazzo di scatti ti raccontava un mondo questo dovete imparare fotografando 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 come diceva Troisi in non mi ricordo con il film non ci resta che piangere giocando giocando imparerai a fotografare a esercitarsi bisogna provare 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 e poi ci si rilascia bene che non è saper usare la macchina fotografica attenzione ripeto è fare uno scatto in cui con uno scatto mi racconti una cosa mi racconti una storia non un fotogramma della storia ma tutta una storia ok questo il fotografo poi ovvio che c'è l'opinione c'è il gusto a me Newton mi ha sempre fatto cacare lo dico apertamente non è un genere di fotografo né di fotografia che mi piace ma non posso dire che dietro le foto di Newton non ci fossero delle storie perché anzi anzi è stato proprio lui uno dei grandi maestri che ha primo rotto gli schemi e rompendo gli schemi ha raccontato nuovi ha svelato nuovi modi di raccontare le storie ok ma comunque in qualunque foto di Newton c'è una storia ok ho un caro amico che si chiama Stefano Corso andatevelo a cercare lui è specializzato in street photography e ora è uno dei più grandi fotografi di street photography che ci siano a livello internazionale la cosa che mi ha sempre colpito di lui erano queste fotografie assolutamente minimal cittadine e ovviamente la sua ricerca era proprio quella di andare a cercare l'elemento umano ma non solo come persona cioè non solo come umanità ma proprio come elemento umano all'interno dello scatto ok Stefano passava ore e ore e ore e ore appostato in un posto che trovava di cui trovava la luce l'arco di combinazioni perfette per arrivare a raccontare la sua storia perché ognuno di voi deve raccontare la sua storia deve dire deve spiegare il suo modo di vedere le cose è questo che fa l'artista è questo che dici ah quello è un grande artista ok per cui diffidate da chiunque vi dica no queste foto fanno schifo no che cazzo no che è sto merda c'è la merda perché non è che si può dire che non si può dire che non ci sia la merda perché non è che si nasce imparati ma vi dico c'era sto fotografo non mi ricordo più chi non mi ricordo più come si chiamava ma uno è un grande fotografo e tu dici vedi queste foto fatte con la polaroid fuori da ogni schema fotografico però lui è l'unico perché perché sebbene le foto sono fatte con la polaroid fuori da ogni schema fotografico se con lucide merda messe a naso e così la storia c'era ok e questo il segreto per cui andatevi a studiare i grandi maestri anche solo sfogliarli io non dico che vi debbano piacere l'opinione e i degustibus non disputando mest c'è chi gente a cui mappe il torno non piace a me fa impazzire poi chi c'è guarda io sono io sono un amante di Beatles proprio io sono con la serie di body del 2008 era ispirata a Beatles e vabbè poi è pieno di fotografi che partiamo anche a Fulvio Reuter cioè non è che bisogna andare tanto in là per andare a cercarla straniero necessariamente ci sono tanti fotografi italiani per cui vale la pena andare a cercarsi informazioni però resta il fatto che non è la parte tecnica lo ripeto che fa la fotografia la parte tecnica aiuta a migliorare aiuta nella ricerca perché quello che dovete fare è un percorso di ricerca dovete cercare ovviamente ovviamente di base parti sempre dalla ricerca dell'aspetto tecnico ovvio normale di imparare ad usare la macchina fotografica conoscere l'esposizione oggi a Gabriele dicevo che magari aveva questa foto che era molto contrastata un po' troppo contrastata a mio parere ovviamente io lo dico sempre a mio parere quando guardate la foto di qualcuno quando scordate la canzone di qualcuno quando ragazzi è sempre a vostro parere non dite mai io l'avrei porco due io spaccherei la faccia a tutti quelli che dicono io l'avrei fatta così ma chi ti si incula? chi ti si incula? ma lo scrivo qui grande chi ti si incula? l'hai fatta tu la foto? no l'ho fatta io la foto hai fatto tu la canzone? no l'ho fatta io la canzone non me ne fotte niente scusatemi in francese non me ne fotte un cazzo del fatto che tu l'avresti fatta cos'ha? ok? non sei un art director non sei il mio capo non sei il mio art director e soprattutto non sei me quindi vale per riflesso il fatto che quando guardate la foto quando prima di tutto quando fate qualcosa a voi non specchiatevi in quello che la gente si aspetta specchiatevi dentro di voi in quello che voi state andando a cercare in quel momento lì Gabriele mi ha detto io in questa foto qui non so sono totalmente colpito da questo mulino con l'acqua che scorreva sotto con la parete illuminata dal sole con quest'altra parte qui che era tutta sotto sotto esposta oh a me è venuta l'emozione e l'ho fotografata benissimo perfetto hai voluto raccontare la tua emozione perfetto io mi fermo qui ok mi chiedi un aspetto tecnico un'analisi tecnica allora ti posso dire guarda questo lato qui era un po' troppo sotto esposto perché l'occhio vede un po' più in hdr per cui tende a compensare le ombre e abbassare un po' le alte luci quindi tende a ribilanciare anche se l'apparenza non ti sembra ma l'occhio fa questo le macchine fotografiche non lo possono fare o espongono o sotto espongono per cui quello che potete fare è un lavoro di bracketing in cui fate un lavoro sull'esposizione degli scuri un lavoro sull'esposizione dei medi un lavoro sull'esposizione degli alte luci e poi combinate insieme sostanzialmente fate l'hdr ok diciamo la base dell'hdr ma è una questione analisi tecnica io non mi metto a dire a Gabriele la foto fa cagare o cosa li chiedo piuttosto ma senti ma cosa volevi raccontarvi con questa foto perché non riesco a capire un attimo qual è il soggetto ok qui la differenza la fa l'annosità con cui scatti ok un bravo un fotografo bravo o più o meno bravo o comunque più navigato è quello che ti fa arrivare l'occhio subito al soggetto ok quello che l'esperienza fotografica gli ha insegnato che se c'è un soggetto me lo devi far vedere ok non può essere che me lo metti in mezzo al tutto perché se no il mio occhio non riesce più ad andare a leggere quello che mi vuoi raccontare ma questo perché perché l'imparare a intro a intro intro questo cazzo intro iettare l'emozione e rimandarla fuori attraverso la fotografia quindi raccontare la tua visione delle cose la tua versione dei fatti io personalmente mi sono rotto il cazzo di tutti quelli che quando scrivo una canzone appunto ah io l'avrei suonata qui avrei fatto questo ok sapete quante canzoni ho scritte tante sapete quanta gente mi ha detto questo o la fotografia ah però io l'avrei fatta così bravo perfetto cioè potrebbe essere un'idea accidenti io non ci ho pensato ok ma per favore specialmente voi fotografi neofiti neofiti e anche fotografi più schillati io non mi metto nemmeno in mezzo perché non sono neofita non sono schillato sono un coglione che si diverte a fotografare che ormai non fotografa quasi più ormai o sto riprendendo adesso con il canale youtube per favore non fermatevi e non spaventatevi del commento l'opinione è sempre opinione ok perché voi troverete il coglione di turno che vi dirà che la foto è bella così come il coglione di turno che vi dirà che la foto è brutta un sacco di volte mi è successo di non fotografo da due giorni di gente che coglione di turno cioè per me secondo me che dice appunto si però secondo me avresti dovuto farla così o e tu dici appunto il discorso è sempre lo stesso sì ma questo l'ho fatta io se la volevi fa così la facevi tu così per cui non spaventatevi di chi vi viene a dire come far le cose di chi vi viene a dire ah si bello brutto rispettate invece chi vi dice ah mi emoziona cosa vuoi raccontare bella la storia di questa fotografia oppure dice a mio parere e anche voi che fate i criticoni a mio parere non è avrei fatto così a mio parere la foto manca di storia la foto non ha un soggetto centrato la foto questa foto qua la trovo un po' persa a mio parere per favore voi che fate i criticoni o che vi permettete di dire l'avrei fatta così imparate a dire a mio parere perché prima di tutto dimostrate molto più rispetto per chi si sta facendo il bucio di culo a raccontarvi una storia e a studiare una cosa che è infinita perché la fotografia è infinita ok non è ah si so usare questa macchina qua perché oh si perché ho il sensore da 95 mila 400 miliardi di pixel e perché ho il no a imparare a usare questa cosa qua già un bucio di culo di suo imparare a raccontare con questa con il cellulare con il cellulari cellulari io sono stato uno dei primi a dire a essere scandalizzato quando leggevo i corsi di fotografia col cellulare il cellulare c'è un sensore che è piccolo che è così così c'è un ottica che è così ok stiamo parlando tra l'altro di 2009 2010 quando uscivano i primi iphone quando è che sono usciti in quel periodo gli uscivano i primi iphone e c'erano quelli che facevano lezioni di fotografia col cellulare io ho appena speso negli anni precedenti tipo 4 mila euro fra obiettivi macchina fotografica c'è volo studio quindi sentivo questi corso di fotografia sul cellulare eppure io oggi sono uno di quelli che fotografa col cellulare sono un grande stimatore della fotografia fatta col cellulare perché perché ha quella quella velocità quell'immediatezza che se tu va in giro con questa e sfila e prendi e metti e punta e gaccia e tira win win schien 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 obiettivo questo è sbagliato non mettiamo un 70-200 non mettiamo un 24-70 non mettiamo un 18-35 perché perché no il cellulare piglia punti scatti effetto polaroid non a caso la polaroid ha creato sia i mostri che gli artisti perché perché aveva questa cosa questa democraticità che oggi c'è il cellulare ok però però fotograferei uguale se non avessi questo percorso di background fatto in questi ultimi 15 anni di fotografia secondo me no secondo me farei le foto che farei con questa macchina qua se fotografassi da due giorni stessa foto perché perché mancherebbe al di là dell'aspetto tecnico mancherebbe la capacità dello storytelling ok quindi consiglio per i neofotografi ripeto fotografate 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 buttate fotografate buttate fotografate guardate guardate le fotografie di chi secondo di chi secondo voi a vostro parere è un bravo fotografo in cui di chi secondo voi anzi quando insieme a fotografia è stato un periodo che insieme a fotografia purtroppo è stato un periodo molto breve però è una cosa che mi è sempre piaciuta io cosa facevo agli allievi dicevo non gli dicevo andate a prendere la foto di quello di quell'altro di questo su gli dicevo sfoglia un giornale e portami la foto che secondo te è più bella quella che ti fa che dici la guarda e dici wow che foto era una cosa talmente eterogenea ma veramente c'era da pizza e fighi proprio una cosa uno una cosa completamente opposta all'altro non c'era una foto uguale ma se tu prendi le stesse persone cioè davanti alla fotografia a una fotografia ti dicono bella brutta no mi piace fa schifo no che schifo di luce che perché ovviamente l'opinione è la tua storia interna che si proietta nella fotografia e che va a leggere e va a interpretare la storia che il fotografo ha voluto raccontare ok quindi quindi però cosa insegnavo dicevo vedete voi quello che gli dicevo quando portavano le foto gli dicevo raccontami quello che ti ha portato a scegliere questa foto che cosa ti ha mosso a scegliere questa foto e allora c'era quello che diceva ma no perché mi piaceva la figa e ci spostava mi piace pure a me per cui ma no perché quest'altro che diceva no perché mi piacevano ah perché ho trovato l'introspezione dell'essere umano che si specchia nella nella coercità del della società con il femminismo acuto e il maschilismo impregna oppure c'era quello che mi diceva non lo so e a quel non lo so era quello che andava andava coltivato perché quel non lo so era una persona che ha scelto una foto per scegliere una foto ed era quella che andava istruita a cercare la storia perché perché questo era il mio punto di vista ovviamente però ecco il bello dell'arte è proprio questo cioè Picasso piace e non piace non è che puoi dire no no Picasso artista assoluto con un bucio di culo così perché lui lui è Picasso no no perché Picasso ti piace perché Modigliani Colli Lunghi ti piace eppure nessuno dei due rispettano la regola del ritratto le regole canoniche del ritratto eppure entrambi è qui la differenza entrambi hanno studiato le regole canoniche del ritratto per arrivare poi a personalizzare i loro ritratti ok lo strumento te lo impari ti impari le scale i pattern per poi andare a dare del tuo oppure se un genio come me che non capisce un cazzo di musica scrive canzoni che già fa per cui detto questo chiudo che sono 46 minuti di minchiate ragazzi allora ribadisco per i neofotogravi fate foto non preoccupatevi di quello che pensa la gente ma preoccupatevi di quello che voi vorrete raccontare alla gente createvi un vostro stile trovate un vostro pattern riconoscibile possibilmente trovate una storia trovate una storia da raccontare forse anche che una storia divisa in dieci foto anzi ecco bravo questo è un bello esercizio ora vi do l'esercizio io allora facciamo un challenge un come si chiamano un challenge hashtag story hox mettiamo questa story hox story for hox story for hox story 4 hox hashtag story for hox mi raccomando per la prossima settimana compitino in classe compitino on web mandatemi tre foto no facciamo una facciamo una foto che se no senta abbastanza una foto e che mi racconti una storia e vediamo quale secondo voi secondo me personalmente è la storia che mi avvince di più ok così insomma rimaniamo collegati rimaniamo connessi e ci divertiamo ci divertiamo insieme detto questo io vi ringrazio per questi 50 minuti se siete arrivati fin qua di attenzione spero spero che l'abbiate fatto perché penso penso che sia una cosa che vale per tutti i livelli di arte non solo la fotografia non solo della musica tutta l'arte è così l'arte è opinione e storie sono storie lette da opinioni l'artista vero è quello che ti sta raccontando ti sta coinvolgendo in qualcosa in quello che lui sta esprimendo ok questo è andato di fatto potete farlo con la sony alfa 73 come con la con la roid come col cellulare potete farlo come vi pare ma la storia fica arriva a prescindere se siete skillati se siete se vi impegnate quindi facciamo fate questo sforzo fate questo sforzo creativo guarda piuttosto che fotografa a cazzo state in un punto osservate lo faceva il mio amico stefano osservate 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 fermi in un posto fino a che non trovate la cosa che dice ah ecco questo è il momento prendete la macchina fotografica e scattate ok e detto questo fottetevi di chi vi dice io l'avrei fatta così io l'avrei fatta cosà sono tutti coglioni ve lo dico in francese perché così almeno arriva meglio la lingua internazionale non fidatevi nemmeno necessariamente di chi è famoso ok il famoso ha la sua versione dei fatti ma ha l'esperienza e detto questo ragazzi grazie per l'ascolto grazie per la pazienza noi ci vediamo non lo so non voglio dirvi cazzate in settimana spero di sì divertitevi fotografate 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 cercate di raccontare una storia a voi stessi una storia che arrivi che provate a proiettare e a raccontare con un fotogramma hashtag story for ox con questo vi saluto hasta la vista ombre vuoi stessi vuoi stessi vuoi stessi vuoi stessi Grazie.